5 metodi per risolvere il problema dell'easy anti cheat su fortnite ovviamente salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema dell'easy anti cheat ovviamente ho realizzato vari tutorial in passato su come risolvere questo problema ma c'è chi ha ancora l'ostacolo davanti a si che non riesce ad avviare fortnite ovviamente se avviate fortnite esce anche l'easy anti cheat assieme a questo errore che non è stato potuto avviarsi quindi l'easy anti cheat non si è avviato neanche correttamente quindi in questo caso andremo direttamente nella sua cartella quindi in questo caso vai su epic games vai su fortnite 3 puntini vai su gestisci andiamo direttamente nella sua cartella fortnite game binaris win64 mi raccomando guarda tutta la guida perché l'ultimo metodo è quello più importante quello dei servizi del sistema operativo quindi andiamo direttamente su l'easy anti cheat tino basso camo prima di fare questo cancella questa cartella perché quella cartella ovviamente serve solamente al programma di avviarsi e lì dentro noi non possiamo fare nessuna modifica questa è la cartella eccola qua esegui come amministratore l'easy anti cheat setup e cominci a fare la riparazione la riparazione disinstalla l'easy anti cheat installa facciamo finisci apri di nuovo l'easy anti cheat e fai riparazione ok una volta fatto chiudi qua torni indietro elimina così la cartella dell'easy anti cheat questa e facciamo la verifica su fortnite ovviamente ripristinerà così la cartella dell'easy anti cheat e noi andremo a fare di nuovo la riparazione disinstallazione e reinstallazione del programma e una volta fatto andremo così a modificare la cartella dell'easy anti cheat dentro la sua proprietà quindi aspettiamo un attimo che faccia così la verifica su fortnite ok abbiamo fatto tutto ritorniamo di nuovo nella sua cartella quindi gestisci cartella fortnite game penis win64 ed eccola qua l'easy anti cheat come ho detto questo è il programma dell'easy anti cheat io per esempio se avvio questo easy anti cheat si apre anche fortnite quindi come ho detto serve solamente ad avviarsi assieme al gioco questa qua è la cartella più importante quindi clicca di nuovo su setup facciamo sì facciamo disinstalla installa e fai la riparazione una volta riparato finisci lo fai ovviamente su tutte tutte queste opzioni current game 217 game 426 e 83 lo fai su tutte e tre chiudiamo qua tasto destro sopra proprietà compatibilità disabilita ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore modifica impostazione per tutti gli utenti se condividete così il vostro pc con altri con altre persone con altri utenti lo fate con tutti e facciamo applica e fai ok modifica impostazione dpi elevati esegui l'override del comportamento di ridimensionamento dpi elevati applicazione sistema avanzato e fai ok se in questo caso non dovesse funzionare tutta questa procedura sulla proprietà esegui il programma in modalità compatibilità per windows 8 ovviamente tu puoi smanettarci sopra da windows 8 tutti questi sistemi operativi lo fai su tutto finché non si avvia il programma easy entry cheat se non funziona come ho fatto prima elimina tutte queste cartelle e fai la verifica così farai un ripristino dell'easy anti cheat quindi in questo caso chiudiamo qua abbiamo fatto il metodo dell'easy anti cheat di ripararlo disinstallarlo e fare così la verifica il programma e poi adesso andremo direttamente su microsoft defender ovviamente sulla sicurezza di windows quando provi ad avviare il gioco è possibile che l'antivirus blocchi così un programma di fortnite protezione firewall della rete consenti app tramite firewall ovviamente in passato avevo realizzato una guida riguardo a fortnite di aggiungere fortnite qua dentro quindi se vai su modifiche e impostazioni consenti un'altra app sfoglia vai nella cartella di fortnite eccola qua fortnite game binaris win64 ci metti sia il fortnite client win64 fortnite client win64 shipping che c'ha il logo dell'easy anti cheat io ci metto questo e faccio aggiungi una volta aggiunto fai ok e abbiamo fatto come ultimo metodo di questo video andiamo direttamente sulla parte più importante del sistema sui servizi ovviamente mi raccomando fate attenzione ai servizi perché qua è una procedura molto delicata quindi se andiamo un attimo sull'easy anti cheat qui c'è l'easy anti cheat dei servizi quindi epic online service e l'easy anti cheat su epic online service se ci clicchi sopra tipo di avvio automatico fai applica e fai applica e fai avvia eccolo qua chiudiamo qua easy anti cheat e easy anti cheat epic online ovviamente se ci clicco sopra tipo di avvio al posto di manuale metti automatico stato del servizio arrestato se io adesso vado ad avviare questo servizio non me lo cioè non partirà perché non c'è nessuna applicazione che sta usando questo servizio quindi faccio su avvia dice l'errore del parametro non corretto non so se vi è mai successo una cosa del genere tipo errore 87 parametro non corretto quindi in questo caso questo qua si avvia solamente quando avviate un'applicazione che usa l'easy anti cheat quindi io faccio su ok easy anti cheat quest'altro qua tipo di avvio manuale metti automatico e fai applica se io adesso vado a fare avvio guardate un po' cosa esce alcuni servizi da qui in poi alcuni servizi si arrestano automaticamente se non sono utilizzati da altri servizi o programmi come ho detto se fortnite non sta usando l'easy anti cheat si arresta non lo sta usando quindi e fate ok altri metodi che vabbè non fanno parte di questa guida però sono consigli tasto windows più r apri la schedina esegui fai esegui qua sopra per cento app data per cento fai ok vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di epic games launcher e cancelli questa cartella ovviamente prima di farlo chiudi direttamente l'applicazione epic games cancelli così la cartella cancelli anche la cartella di fortnite game e chiudi qua una volta fatto andiamo su epic ci dirà di nuovo di rimettere così il nostro account io ovviamente accedo con l'account google ok una volta fatto una volta fatto tutto questo tre puntini gestisci verifica i file e fai una verifica ovviamente cerca di avviare fortnite sempre come amministratore quindi tu puoi anche direttamente scrivere fortnite qua sopra sempre se mi esce ok se non mi esce devo per forza andare sui tre puntini nella sua cartella devo andare direttamente quindi volume il mio volume fortnite fortnite game 64 dove eccolo qua 4 anti client un 64 shipping mostra attropazione proprietà compatibilità ed eccolo qua esegui questo programma come amministratore sempre sempre come amministratore e adesso non ci resta che avviare fortnite connessione in corso dopo tutte queste procedure fortnite sta andando si sta caricando io non ho mai problemi con questo fortnite ho sempre tutto aggiornato driver aggiornati faccio sempre le solite cose quindi nel rimuovere riparare verificare così i file di fortnite l'easy.ntg eseguirlo sempre come amministratore ormai più di 45 guide tutorial su come risolvere i problemi di fortnite c'è la playlist sul mio canale di tutti i suoi problemi quindi chiudiamo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema dell'easy anti cheat sim ad altri metodi che ti ho spiegato alla fine sia per i servizi che per su epic games di cancellare le cartelle in app data e fare così la verifica al gioco iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao